È un'agricoltura ormai 4.0 e di conseguenza l'agricoltura italiana deve, mantenendo le proprie tradizioni, mantenendo le proprie tipicità, deve adeguarsi almeno in quella parte digitale che serve agli agricoltori per migliorare le produzioni. È stato quello che ha tirato fuori il problema all'interno della maggioranza. Penso che l'anno scorso quando era stata approvata la legge è stata approvata in buona fede. Ritengo che però ad oggi il problema del caporalato non è stato risolto e l'abbiamo visto anche quest'estate e di conseguenza io finché avrò voce, finché avrò fiato e finché potrò farò una lotta senza quartiera al caporalato perché non è solamente un problema della Puglia, è un problema di tutta Italia. Mi spiego meglio, in Australia ci sono dei nostri competitor e ci sono delle aziende australiane che hanno fatto dei manifesti 6x3 dove fanno vedere gli schiavi che ci sono in Italia, perché stiamo parlando di schiavi che ci sono in Italia, dicendo che i loro prodotti sono etici e i nostri no.